Un ferragosto da record, anzi da tutto esaurito, da far impallidire anche i risultati dell'estate 2019, l'ultima prima della pandemia, a patto che il meteo non guasti la festa. A prevedere questo andamento è un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, tra i propri associati di tutta Italia, focalizzata sul periodo tra il 12 e il 21 agosto, il clou della pausa estiva. Dall'indagine emerge che potrebbero essere oltre 10 milioni i turisti che in questo periodo pernotteranno in strutture ricettive tradizionali e non, per salire fino a 15 milioni e più, aggiungendo al computo gli italiani che hanno deciso di vivere temporaneamente nelle seconde case. Tra i turisti che passeranno la notte in strutture ricettive, gli italiani dovrebbero essere 5,5 milioni, 4,5 milioni gli stranieri, a tratti in particolare da città e borghi d'arte. La spesa complessiva, diretta e indiretta, dovrebbe ammontare a 3,5 miliardi di euro. Due terzi dei turisti opteranno per gli alberghi e un terzo per bed and breakfast, agriturismi e campeggi. Il ritorno dei turisti stranieri in Italia è trainato per quanto riguarda l'Europa da tedeschi, francesi e britannici, ma l'euro debole sta calamitando verso l'Italia anche molti americani, avviati a superare ogni risultato precedente.